Sono passate diverse settimane dal Consiglio straordinario comunale di Pescara in cui si era parlato della questione NAIDI, il Comune è pronto a prendere in gestione l'impianto di Viale Riviera Nord, sono passate alcune settimane, il Comune aspetta ancora la Regione, Sindaco, vi avete sollecitato proprio la Regione Abruzzo e quindi si aspetta la risposta ma soprattutto la riapertura di questi impianti. Noi abbiamo sollecitato la Regione in un'ottica pienamente collaborativa perché noi vogliamo che le NAIDI possano tornare a essere il punto di riferimento per i tanti nuotatori e per i tanti che vogliono frequentare quell'impianto stupendo. Purtroppo oggi è chiuso, ci siamo messi a disposizione della Regione dicendo che eravamo pronti a gestire questa struttura, a farci carico della gestione. Aspettiamo di definire le varie questioni con la Regione, quindi dobbiamo insistere, il sollecito non è una reprimenda, è soltanto un richiamo, un'attenzione maggiore per un tema che deve essere definito assolutamente in tempi brevi perché oramai le piscine stanno riaprendo e quindi è giusto che riapra anche la struttura delle NAIDI che è una struttura fra le migliori d'Italia. Poi noi abbiamo anche fatto la proposta alla Regione di poterla gestire per almeno due anni perché è necessario per avviare una programmazione seria e non improvvisata. Ci sono dei limiti legati a un percorso che la Regione sta facendo, però faremo un incontro a brevissimo proprio per trovare la soluzione che ci permetta di riaprire immediatamente le NAIDI. Noi siamo a disposizione come sempre, io ho sempre detto che mi sarei occupato di tutte le questioni che riguardavano la nostra città. Le NAIDI non sono di proprietà del Comune ma della Regione, però si trovano sul nostro territorio e quindi me ne occupo. È possibile in questo momento, Sindaco, fissare una data ipotetica per la riapertura? Non voglio fare date perché questa data potrà uscire dall'interlocuzione con la Regione, quindi io direi una data, per me l'auspicio è di riaprire nel più breve tempo possibile. Noi avevamo un mese e mezzo fa detto che eravamo pronti per il 15 maggio, purtroppo questa data è arrivata ma non si è ancora definita la questione con la Regione. Grazie. 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 Grazie.